Il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Salerno ha chiesto la conferma della condanna ad 8 anni di reclusione per Biagio Maceri, condannato in primo grado per il rogo dell'opificio di Montesano sulla Marcellana, in cui il 5 luglio del 2006 persero la vita Giovanna Curcio, 15 anni, e l'Anna Maria Mercadante, 49 anni. Nel discorso d'accusa del Procuratore Generale, che nel corso della seconda udienza del processo d'appello BIM a FLEX ha rigettato tutte le eccezioni presentate dalla difesa di Maceri, sono state ripercorse tutte le fasi dei drammatici momenti che portarono alla morte delle due operaie. Le due donne morirono per asfissia a seguito del violento incendio che si sviluppò all'interno dell'opificio ubicato nello scantinato di una palazzina in Corso Italia a Montesano sulla Marcellana. Ed è proprio l'organizzazione del lavoro all'interno della fabbrica a sostenere l'impianto accusatorio e la richiesta di conferma della pena per il titolare Maceri, emessa in primo grado dal Tribunale di Sala Consilina il 21 luglio del 2009. Nel corso dell'udienza è stata ammessa la costituzione di parte civile del marito e della figlia di Anna Maria Mercadante, subentrati in qualità di eredi di suo figlio Antonio Arnone, 29 anni, morto lo scorso 20 gennaio in un incidente stradale. La prossima udienza del processo è stata fissata per il 30 aprile con le conclusioni delle parti civili.